Poi mesi fa una mia amica appassionata di fotografia decise di passare un giorno ed una notte da sola nella foresta fuori dalla nostra città. Voleva scattare delle foto della natura per infilare scatti genuini nel suo portfolio. Non aveva paura di rimanere sola poiché già più volte aveva fatto campeggio per conto suo. Montò una tenda in un piccolo spazio brullo tra gli alberi, spendendo poi il giorno facendo fotografie. Riuscì a riempire quattro rullini in questo singolo giorno, ma una volta sviluppate le foto, quattro di queste la inquietarono non poco. Quelle quattro foto erano state scattate all'interno della sua tenda e mostravano lei addormentata nel buio della notte.